Buongiorno, siamo a Roma dove è in corso il convegno amore e ormoni nella vita delle donne organizzato dalla MSD. Si parla di sessualità, si parla di contraccezione. È importante che la contraccezione sia quella più giusta per ogni donna. Personalizzare un percorso in ogni fase della vita e quindi dalla contraccezione di barriera alla contraccezione ormonale che oggi beneficia anche di un nuovo modello di anello con una modalità di applicazione innovativa può essere importante perché ogni giovane possa poi vivere serenamente la sessualità e perché ci sia un dialogo costante con il proprio ginecologo per scegliere quello che è il modello più giusto per ogni ragazza, per ogni donna nelle varie fasi della vita. Dottor Bernario, parlando di contraccezione sappiamo che l'Italia non è proprio ai primissimi posti e sappiamo anche però quanto sia giusto informare le ragazze della possibilità di molti metodi contraccettivi perché forse manca un po' questa cultura. Sì, allora purtroppo siamo in fanalino di coda in Europa, ci sono grossi motivi socio-culturali, anche psicologici forse che bloccano le donne. Io dico sempre che siamo in un paese ormonofobico, quindi la paura in generale degli ormoni. Però manca giustamente, come dice lei, una corretta informazione su quelle che sono le diverse tipologie contraccettive. Le donne giovani pensano spesso alla pillola come unica possibilità, in realtà abbiamo altre possibilità di utilizzare gli ormoni, ad esempio attraverso un cerotto da applicare una volta alla settimana sulla pelle, attraverso un anello di materiale plastico da inserire in vagina e questo è fantastico perché sono solo due gesti al mese che la donna deve fare, una volta lo introduce e dopo tre settimane lo toglie. Abbiamo anche dei sistemi un pochino più invasivi, tra virgolette, quali ad esempio la spirale medicata al progesterone oppure l'impianto sottocutaneo, cioè un bastoncino che rilascia ormoni che viene messo dal medico posizionato sotto la cute. Quindi sono tanti sistemi, l'importante è che la donna possa confrontarsi col medico e farseli illustrare tutti, perché non c'è un metodo che possa andare bene a tutte le donne. Più libertà di scelta si ha e più possibilità di trovare qualcosa che vada bene alla donna c'è e quindi è molto importante avere questo scenario che negli ultimi anni si è veramente allargato tantissimo. Scendiamo un po' più nei dettagli di questo nuovo anello, anche della metodica di applicazione e anche della possibilità in qualche modo che psicologicamente forse si è accettato meglio. Sì, in realtà l'anello è sempre quello, non è cambiato nulla. L'anello è un sistema interessante perché limita moltissimo la possibilità di dimenticanza dei confetti della pillola, che sappiamo soprattutto essere nelle donne più giorni un dato importante che rende, diminuisce significativamente l'efficacia del metodo. Ci siamo chiesti ma perché pur essendo questo metodo così pratico, comodo, sicuro, che rilascia pochi ormoni in circolo, le donne lo usano poco? Eh beh, lì c'è una difficoltà emotiva importante perché alla fine manipolarsi i genitali non è così facile. L'idea di introdurre questo qualcosa la donna dice ma magari non l'ho messo bene, chissà cosa succede. Ecco quindi che la novità è l'applicatore. L'uovo di colombo è stato creato un applicatore simile a un applicatore dei tamponi che la donna usa per le mestruazioni. All'interno di questo applicatore viene caricato l'anello e questo dà una rassicurazione sia di tipo cognitivo la donna perché è sicura di averlo posizionato bene, ma anche di tipo emotivo perché non deve toccarsi con le dita la vulva, scivola dentro facilmente e quindi io credo che questo sistema potrà in futuro facilitare l'accesso a questa metodica contraccettiva. Sessualità e contraccezione, sicuramente una contraccezione sicura vuol dire anche una sessualità più sana, più serena? Sì, più serena. Diciamo che il fine della contraccezione è proprio quella di, in un certo senso, sganciare l'aspetto riproduttivo della sessualità da quello che è l'aspetto più ludico, più relazionale e quindi l'obiettivo principale della contraccezione è proprio quello di poter vivere una sessualità serena in relazione con il proprio partner senza avere la preoccupazione di una gravidanza indesiderata. E credo in conclusione anche l'importanza di un counseling con il proprio ginecologo per individuare quale sia il tipo di contraccezione più adatta. Magari parlare di quelle che possono essere delle problematiche di ogni donna per valutare l'uso di estrogeni progestinici combinati, quant'altro, insomma, parlarne. Sì, il ginecologo è senz'altro il referente principale proprio perché la valutazione deve essere completa, da un punto di vista medico perché ci sono alcune controindicazioni e poi è importante il counseling, cioè il ginecologo deve riuscire a capire quali sono le caratteristiche della donna per potergli offrire il sistema che più, diciamo, si confà con la sua struttura, dico sempre un po' psicologica perché questo è importante, il metodo deve essere accettabile, se il metodo non è accettato psicologicamente dopo un po' non verrà più usato. E dal momento che le campagne di informazione sulla contraccezione devono raggiungere soprattutto le giovanissime, è importante parlare il loro linguaggio e comunicare i dati più rigorosi attraverso canali che loro usano ogni giorno. Ecco perché si è pensato di organizzare un collegamento in streaming con la blogger Dorotea Manco, giovane medico che ha coinvolto le sue followers parlando dell'importanza di usare internet come strumento di ricerca, imparando però ad avere come riferimento solo siti e piattaforme con un solido contributo scientifico, come ad esempio il sito La Pillola Senza Pillola, pensato da MSD per offrire ad ogni donna tutte le risposte che cerca in fatto di contraccezione per vivere una sessualità serena e consapevole.